Ben trovati cari amici di Scopri Brescia, come sapete le vostre guide turistiche preferite di Brescia e provincia vi portano a scoprire non solo i tesori della città di Brescia ma anche della provincia e questa volta siamo qui per un appuntamento molto speciale. Ci troviamo a Ordi Nuovi, una ridente cittadina della bassa bresciana nota soprattutto per i ristoranti, i locali e i rinomati e prestigiosi negozi ma anche per aver rivestito un ruolo fondamentale nel corso della storia. Un centro culturalmente vivace a Ordi Nuovi, in passato come oggi meta di artisti bresciani e foresti che hanno lasciato qui il segno tangibile del loro passaggio. Un simbolo del suo glorioso passato si trova proprio alle nostre spalle stiamo parlando della rocca che costituiva il fulcro della cittadella militare. All'interno della cinta muraria sorgevano moltissimi edifici religiosi alcuni dei quali tuttora esistenti, altri invece demoliti ma con storie inedite e curiosa che vale la pena raccontare. L'itinerario si svolgerà lungo i monumenti più straordinari di Ordi Nuovi tra essi ci sarà la rocca, il palazzo comunale, la parrocchiale, la bellissima chiesa di Santa Maria in Carrillo. Vi aspettiamo quindi tutti sabato 31 agosto a partire dalle ore 15.30 in piazza Vittorio Emanuele II proprio ai piedi della nostra magnifica parrocchiale di Ordi Nuovi. Ci sarà il nostro stand dove ci troveremo e potremo partire nel nostro curioso itinerario. Per i costi e le informazioni e prenotazioni visitate il sito www.scopribrescia.com